Finalmente in Commissione Ambiente abbiamo esaminato il nuovo piano CAVE. È un piano che doveva essere approvato dal Consiglio regionale entro 150 giorni dall'approvazione della legge. Peccato però che quella legge è stata approvata il 7 settembre del 1982. Quindi abbiamo un ritardo di soli 35 anni. Questo a mio avviso la dice lunga su quanto potente sia la lobby dei cavatori. Fare un piano è andare a mettere i puntini sulle E, andare a fare le pulce a questa attività, andare a dire dove si può scavare e dove non si può scavare. Questo finora non è stato detto. Finalmente abbiamo in Commissione questo documento che naturalmente oggi ci è stato illustrato ed esamineremo con molta attenzione. Naturalmente facendo eventuali proposte per migliorarlo anche perché è ora di pensare, di puntare su un'edilizia ecosostenibile e continuare a scavare il Veneto, a creare crateri in giro per il Veneto. È poco sostenibile e poco si adatta con la tutela dell'ambiente. Grazie. Grazie.